Bentornati cari ascoltatori in questa nuova pillola di podcast questa sera parleremo di Elon Musk e della sua SpaceX la sua azienda aereospaziale che appunto vanta di grossi successi in questi ultimi anni e che è nata con lo scopo di riuscire a colonizzare Marte ma non solo perché recentemente anzi in verità già da qualche anno però recentemente si riescono a vedere i primi risultati Elon Musk con la sua SpaceX è partito con un'idea veramente pazzesca ovvero quello di circondare l'orbita del pianeta Terra con dei piccoli satelliti al fine di creare una fittissima rete di telecomunicazioni e portare così internet a banda larga in tutte le zone del mondo è veramente incredibile e questa tecnologia sfrutterebbe solo questi satelliti indipendentemente dalle infrastrutture che possiamo proprio trovare sul suolo terrestre nasce appunto così quindi un nuovo distaccamento della della di SpaceX e appunto Elon Musk con la sua azienda inizia a lavorare e a sviluppare il progetto Starlink quindi l'anno scorso SpaceX manda in orbita ben due satelliti chiamati microsat 2a e 2b appunto questi due satelliti lanciati in orbita intorno alla Terra hanno raccolto e spedito dati e mandato dati appunto alle alle basi alle stazioni di SpaceX riguardante la possibilità appunto di riuscire a creare questa sorta di scudi potremmo dire così di satelliti per usare internet in tutto il mondo per un anno appunto hanno mandato questi questi dati fino a che appunto recentemente hanno spedito ben 400 satelliti in orbita intorno al nostro pianeta proprio con lo scopo di creare una rete wifi non utilizzi appunto nessuna infrastruttura sul nostro pianeta e questi 400 satelliti sono una piccolissima parte dei 12.000 di questi satelliti che dovrebbero comporre l'intero guscio potremmo chiamare così che dovrebbe girare intorno alla Terra appunto questo guscio è diviso in due 4.400 satelliti orbiteranno a 1.150 chilometri d'altezza e i restanti 7.600 in orbita bassa a 340 chilometri insomma un vero e proprio progetto ambiziosissimo potremmo dire così che vede la sua conclusione comunque le previsioni dicono che la sua conclusione quindi il lancio di tutti e 12.000 satelliti in orbita sarà previsto per il 2024 anche se in verità questo progetto ha molte sfaccettature ancora insomma molta gente non è d'accordo molta gente d'accordo ci sono di mezzo i vari stati e quindi insomma un progetto veramente ambizioso che avrà davanti probabilmente molte difficoltà oppure no insomma chi può dirlo ancora Elon Musk che tira sempre fuori l'asso dalla manica e riesce sempre a fare delle cose veramente sbalorditive io vi ricordo di seguirci su facebook su instagram di iscrivervi al nostro canale youtube e schiacciare sulla campanellina e lasciarci anche un bel mi piace e noi ci rivediamo mercoledì prossimo o in un'altra pillola di podcast ciao a tutti